nuovo mini speciale nuovo ospite oggi ho il piacere di avere marco schnabel musicista compositore, cantatore, produttore innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito doppio grazie perché in realtà sono tecnicamente ospite del tuo studio che è attrezzatissimo quindi sono in trasferta venendo qui avevo il dubbio se parlare del sistema sanitario nazionale soprattutto sulla efficienza delle prenotazioni o parlare della musica nel cinema ho pensato visto che Marco un po' di musica ne capisce facciamo che parliamo di musica a te la parola Marco a me la parola ciao a tutti ciao Guido allora quando mi hai chiesto di fare questa cosa mi hai chiesto di scegliere un paio di film di cui parlare riferendosi al mondo musicale insomma la parte musicale dei film stessi ho pensato a due film completamente apparentemente completamente diversi uno è il famosissimo Saturday Night Fever la febbre del sabato sera del 1979 e l'altro invece è l'appena uscito la zona di interesse che credo che sia proprio il 2024 il 2023 perché ha vinto l'Oscar nel marzo del 2023 è vero entrambi i film che hanno intestato la febbre del sabato sera è un film cult insomma un'icona del cinema negli anni 70 della disco dance è un film che è stato poi percepito dalle masse come un film sul ballo quindi su qualcosa che sia allegro è divertente il secondo film invece la zona di interesse è che sta ha avuto parte dell'Oscar ha fatto un sacco di scontri di pubblico nelle sale che mi fa molto piacere affronta un argomento apparentemente completamente diverso in maniera anche abbastanza in faccia insomma in quella maniera e poi facciamo fare un parallelismo tra i due film e cerchiamo di capire perché apparentemente come hai usato tu come termine possono essere film intanto sono produttivamente di due epoche diverse il 77 credo la febbre del sabato sera mi permetto no perché poi nei commenti subito ci sarebbe chi ci corregge quindi lo anticipiamo un film statunitense con una stata emergente all'epoca tra volte aveva 23 anni anche se nella finzione cinematografica doveva fare un 19enne quasi 20 dice nel film è un film di un ringista inglese girato in lingua tedesca su una pagina storica purtroppo drammatica e nota anche se tecnicamente inizialmente la febbre del sabato sera nasce da un articolo inchiesta su New York Magazine Riti Tribali delle ragazze del sabato sera che poi il titolo fu cambiato la febbre del sabato sera prendendo in prestito una parte del titolo della canzone di Bee Gees e l'altra appunto questa inchiesta che poi anni dopo si scoprì che invece era parzialmente l'inchiesta era molto di finzione però l'idea era di accumularli a parte insomma la bellezza diversa del comparto sonoro dei film non so credo di intuire la parte tua che trasmettono un certo livello di tragicità i film tu hai detto una cosa vera molto interessante che forse in maniera un po' troppo superficiale la febbre del sabato sera viene percepito come un film allegro sulla musica il disco dance in realtà quello è solo uno strumento per quei ragazzi della Brooklyn italo-americani di quegli anni non per emanciparci per evadere dalla realtà ma lo stesso film ti trasmette un'idea molto dura della vita di quella però voglio tornare a te comincia a raccontarci questo parallelismo il parallelismo è dovuto fondamentalmente a questo primo che cioè parzialmente uno sembra un film con tanta musica e uno con non c'è colonna sonora però se ti hanno colpito ci deve essere una ragione umana e tecnica e musicale importante certamente allora nella febbre del sabato sera la febbre del sabato sera è un film sulla disperazione secondo me proprio in maniera plateale è un film sulla disperazione di una generazione fondamentalmente rappresentata da come si chiama Tony Manero sì Tony Manero yes da Travolta e appunto il film è stato sempre percepito come allegro e divertente di John Travolta che balla qui e là eccetera ma già dalla apertura del film stesso l'orecchio attento con un orecchio che conosce l'inglese che capisce i testi eccetera può subito percepire che il film parla di qualche cosa di diverso cioè la premessa proprio del film è quella non è balliamo facciamo un casino ci divertiamo la premessa del film è raccontata nel testo di Stayin' Alive che è il pezzo in cui si apre il film in cui si vede questa specie di piano sequenza in cui Travolta cammina per la strada di Brooklyn vestito come un figo con la sua camminata da figo eccetera bla bla ma se uno legge il testo la canzone parla di disperazione perché dice in breve dice io sono un uomo che lo vedete da come cammino che sono un uomo che va a donne che è stato sempre a fare musica ha belle donne qua e là sono un figo bla 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 e a un certo punto verso la fine del testo si dice Life going nowhere Somebody help me che significa la mia vita non sta andando a nessuna parte per favore qualcuno mi dia la mano perché non so dove sto andando è un film che attraverso questo testo è il racconto che viene dipanato dopo questo testo ripeto come premessa non è che questo testo arriva alla fine del film c'è proprio a inizio è un film che parla del non futuro del non futuro di una generazione di quando un ventenne diciannovenne si trova in una situazione cittadina degradata come quella di Brooklyn ma come quella di tantissime altre città del mondo la working class il degrado il poco lavoro i pochi soldi eccetera e un ragazzo si nasconde dietro la facciata estetica il ballo il figo eccetera ma poi in effetti lo aspetta una vita in cui non c'è assolutamente nessun futuro per lui come non c'è futuro incomincio a percepire questo raffinato accostamento delle vittime dell'olocausto in maniera chiaramente drammaticamente diametralmente diversa quello sì non vogliamo essere accusati ma c'è disperazione da tutte e due le parti sì perché a volte troppo superficialmente le persone specie se uno non ha dimestichezza con l'inglese si soffermano sulla orecchiabilità di una canzone e non sull'importanza del testo inglese o anche può essere in un'altra lingua che ha quella canzone che il regista e lo sceneggiatore hanno scelto di mettere quel punto del film lasciando da parte a quel punto i dialoghi del film che uno sceneggiatore o un regista ha scritto quindi in quel momento è quella la recitazione del film ed è un atto importante autoriale ma anche il regista si mette un attimo una parte perché sta mettendo un altro autore in quel momento all'interno del suo film e anche se B.B. G.S. all'epoca tra l'altro fece un sacco di soldi quella colonna sonora prima di Thriller era il disco più venduto al mondo prima di Guardia del Corpo era la colonna sonora più venduta di un film però c'è una scelta in realtà è molto omogenea la musica di B.G.S. nel film e la dissociazione di come le persone lo hanno percepito è un film vero sulla disperazione rivedendo è stato ultimamente presentato la Cineteca di Bologna che ha ripreso restaurato un cinema in centro di Bologna modernissimo e ha fatto piacere vedere tanti ragazzi tante persone rivedere un film del 77 c'è chi casomai non l'aveva mai visto e l'impressione era quella di rivedere gioventù bruciata tu che insomma parli inglese meglio dell'italiano non che non parli bene l'italiano Marco però è una pronuncia invidiabile gioventù bruciata è ribello senza una causa non è gioventù il titolo italiano è la classica tipica moralista è un titolo da censura sì che sta giudicando esatto negativizza la generazione a priori e invece erano dei ragazzi che non avevano ancora una diologia politica il 68 è bello che è lontano era gioventù bruciata uscì dall'ottobre del 55 che lui è il 24 James Dean morì il 30 settembre del 55 uscì posto hanno questo malessere che non è solo il conflitto generazionale con i genitori ma ancora non è focalizzato o concentrato attraverso un'ideologia politica una battaglia sociale o civile come in moti studenteschi John Travolta lo stesso è quella generazione di italo-americani sotto classe proletariato neanche proletariato è impaziente è ribelle è ribelle di nuovo senza una causa è rabbiosa la cosa che mi ha colpito nel film è l'impazienza di questi ragazzi cioè non hanno pazienza neanche nei rapporti umani ti ho detto beh è un film duro dove ci sono momenti duri ma la musica è un momento non di evasione del film e neanche di emancipazione per loro è proprio un momento per non affrontare l'idea che invece il futuro ci devi pensare lo dice il datore di lavoro nella seconda scena dopo lui ha fatto quella camminata strafiga mi ha fatto mi viene in mente una scena proprio con la tua osservazione che è veramente concettata e pertinente quando il papà gli dà lo schiaffo in testa una persona normale dirà beh mi hai fatto male perché ti hanno dato uno scappellotto lui si preoccupa che gli ha spettinato i capelli sono particolari fighissimi mentre la zona di interesse e qua voglio tornare il tuo orecchio musicale prego allora io ti commento ti dico questo che il modo in cui io concepisco la musica nei film questo è un mio modo di concepire chiaramente quanto autore ci mancherebbe anche questo ho in mente che ogni volta che ascolto musica in un film per me quello rappresenta quello che rappresentava il coro nella tragedia greca nella filmografia contemporanea e anche nel teatro un po' contemporaneo la figura del coro si è persa perché a quello si è sostituito l'accompagnamento emotivo della musica ancora di più questa cosa secondo me è sottolineata nel caso in cui ci sono i testi perché in quel caso c'è proprio un coro che sta recitando dei testi che se uno conosce la limba del film poi vai a ascoltarti il testo ha sempre attinenza con le immagini o con un mood che il regista vuole comunicare non c'è mai un pezzo messo in un film perché tanto per ogni pezzo di musica o di suono che c'è in un film ha un suo significato come nel coro greco la risposta del coro alla scena che avveniva era un modo per far continuare la scena far continuare la scenografia ma dall'esterno commentarla emotivamente è il pubblico in quel caso che commenta emotivamente quello che accade all'interno dell'anfiteatro ed è la musica che commenta emotivamente e guida lo spettatore in questo viaggio emotivo che è quello che poi messo insieme dalle immagini a volte non c'è bisogno della musica perché le immagini parlano da sole e sono scelte artistiche ma nella maggior parte dei casi la musica è quella che incolla tutto e parla dell'emozione dall'inizio alla fine posso permettere una cosa perché stavo pensando che John Williams che è uno dei più grandi compositori di sempre del cinema ha fatto 90 anni e decine e decine di composizioni epiche quando ha fatto il primo Guerra Stellare in Amagnaccia Fantasma che è il quarto perché è un pensiero del quattro cinque e sei e poi si torna indietro il celebre duello tra Obi-Wan Kenobi e Darth Maul con il maestro di Obi-Wan Kenobi oltre alla colonna solo a celebre lui ha composto un pezzo nuovo apposito che si chiama Dual Love Feeds dove c'è il coro c'è un film di fantascienza in una galassia lontana o lontana tra l'altro una delle grandezze di Guerra Stellare che non c'è rispetto dei film di fantascienza che hanno una data ben precisa e che rischia di far invecchiare il film quando poi tu la raggiungi visto che la tecnologia è più moderna di quello che finisce qua apriamo parentesi è così quello che dici tu è esattamente così lui non solo c'è la musica e il coro ma lì c'è proprio il coro in un film che dovrebbe essere di fantascienza con le spade laser che non esistono quindi non solo la tua idea autoreale ma l'idea che abbassi logiche ben presenti tornando alla zona di interesse credo che il comparto sonoro mi riferisco sempre al comparto sonoro perché uno degli errori che a volte si fa sempre per le traduzioni italiane che noi intendiamo la colonna sonora il disco che uno va a comprare con le canzoni invece la colonna sonora di un film è il comparto sonoro che è dato dagli effetti dalla musica scritta appositamente nel film o poi utilizzare la musica classica come faceva Kubrick nei suoi film e delle canzoni anche qui che possono essere scritte appositamente per il film o può essere tra virgolette in prestito pagando i diritti da autori che le avevano scritte per altre ragioni quel film non ti dà nonostante non si mostri nulla non si mostra un rigolo di sangue non si mostra la morte però non ti dà maniglia non ti dà scappatoie e non te lo dà attraverso il connubio tra l'immagine e questa musica anche la il rumore della motocicletta continua che non è una trovata cinematografica scoperto leggendo poi gli appunti che in realtà il direttore del campo di concertamento di Auschwitz aveva pagato uno per per girare non solo per una forma di controllo in modo tale che ulteriormente non aveva la possibilità di controllare che nessuno sempre se avesse avuto la forza Boverini e vadesse ma per non far sentire i rumori della vita costretta a Auschwitz nella vita agiata e normale nella villa quindi quello dov'essere un rumore che copriva il rumore acquietava quindi anche quella che noi sentiamo nella finzione cinematografica è una trovata in realtà rigorosamente storica e quindi dici bene cioè quel comparto sonoro ti trasmette quel livello di tragicità di non speranza vabbè nel caso della zona di interesse la maestria con cui l'apparato sonoro è stato messo su è incredibile nonostante sembri semplicemente un rumore di fondo ma dietro quello c'è tantissimo perché c'è innanzitutto per quanto riguarda la musica un compositore aveva già incominciato a scriverla la musica per il film perché aveva già scritto dei brani quando hanno sincronizzato i brani su alcune delle scene del film hanno insieme sia il compositore che il regista ma più di tutto il compositore ha detto qui la musica non ci deve stare cioè non è un film che mi arriva come un film che può avere una musica di sottofondo il regista poi è stato d'accordo con questa visione del compositore quindi è stato lasciato al sound designer il sound designer che è questo è un ricercatore fondamentalmente è un musicista ricercatore uno fa ricerca di suoni o li crea attraverso sintetizzatori macchine eccetera a volte mischiando suoni totalmente diversi completamente li crea per ad hoc per delle scene per delle robe eccetera qui c'è il sound designer che ha fatto questa questa opera incredibile perché ha inventato questo muro di fondo che poi si capisce a un certo punto nel film che rappresenta tutto quello che accade al di là del muro cioè nel campo di concentramento le urla i cani che baiano le sparatorie in continuazione sono sparate pistolettate si dà una grande profondità emotiva al film nonostante tu hai un fuoricampo narrativo costante noi non entriamo mai tranne alla fine a me ha dato senza nel museo esatto e invece lì c'è il silenzio lì c'è il silenzio ovviamente una massa di scarpo e la orbita quella mi pensate ha detto bene quanto è non solo artistico ma emotivamente stato importante e delicato incredibile il lavoro che ha fatto perché da un lato hai un film tra virgolette piatto piatto nel senso che mostra l'altra piccola parte in realtà è una vita residuale di pochissime persone la famiglia del direttore e giusti i suoi collaboratori inservienti collaboratori domestici anche quella era una forma di schiavizzo ma nei centinaia di miliardi di persone che ogni settimana arrivavano lì avevano delle vite delle famiglie che noi non vediamo e non vediamo quello che risurciamo ma lo percepiamo attraverso il sonoro sì e la figata è stata che il film non so quante ore dura due ore e mezza no no in realtà dura poco un'ora e 48 un'ora e 48 a mia memoria per un'ora e 48 questo qua ha creato questo drone che è un drone fatto di diversi suoni eccetera messi insieme ma dopo la metà del film la prima metà del film questo suono aumenta di volume non lo si percepisce se si vede il film in maniera così una volta soltanto devi andartelo a rivedere due volte devi schippare tra una prima parte e una seconda per sentire che questo rumore nella seconda metà del film va sempre più incrementando di volume di pochissimi decibel ma che contribuiscono perlomeno hanno con me contribuiscono a questo senso di innanzitutto fastidio enorme perché tu mi dici ma come fai a vivere una situazione familiare del genere con un sottofondo del genere ma non sei folle a fare una roba del genere e poi mi ha dato un senso proprio di disagio di disperazione di assurdità di scollegamento totale da quello che succede da una parte e da un'altra che poi è quello che il regista voleva fare se avesse tenuto il film senza suoni questa cosa sarebbe accaduta ma non in maniera così forte così grave come è accaduta mettendoci quel drone che va sempre più in alto di volume nella seconda metà del film questo è quello che è arrivato a me è chiaro che è un film che funziona su due registi perché è una pagina storica che è realmente accaduta anche se sono i negazionisti lasciamo e che viene rappresentato in modo nuovo diverso e ugualmente duro crudo senza essere ruffiani ricattatori questo è il film molto bello pulito però è evidente che sta parlando di una deriva sbagliata della società di oggi di una società che di qualsiasi possibile società non voglio dire che non si accorge perché anche lì allora mi petterei nei panni però ci sono sacche di persone che non se ne fregano non se ne accorgono perché tu hai detto una cosa giustissima come era possibile vivere perché erano quel tipo di persone per te sarebbe stato insostenibile dopo un giorno per dire nonostante devo dire una cosa in questo il film ti arriva grazie a questo perfetto dell'immagine solo che attentamente vedete l'orecchio di un professionista non solo strutturato ma emotivamente strutturato con una curva emotiva che deve essere un crescendo è come se fosse un crescendo orchestrale solo che è un crescendo di un suono insulso perché è orrendo poi alla fine è una roba incredibile se posso aggiungere una cosa proprio del film eccetera mettendo la parte della parte sonora eccetera proprio la parte del film tu hai detto è difficile mettersi nei panni negli altri come fai a sapere questi che cosa pensavano mentre stavano vivendo eccetera c'è una cosa che mi sta colpendo molto della filmografia contemporanea che vedo sempre di più ed è questa perlomeno io la percepisco mi arriva questa attenzione per il mondo dell'infanzia l'ho visto in Anotomi di una caduta l'ho visto in il nastro bianco l'ho visto in un sacco di film insomma contemporanei forti il nastro bianco è un po' datato però ma anche in questo film gli adulti che ci sono in questo manager di questa casa eccetera sembrano tutti quanti persone più o meno giornali insomma medie eccetera però a volte mi sono soffermato su gli sguardi dei bambini perché il regista secondo me volutamente a volte inquadra i bambini e fa dei quadri dei piccoli quadretti sottendono tutti quanti probabilmente perché gli è stato detto di recitare in quella maniera una inquietudine cioè ci sono dei bambini che apparentemente stanno giocando eccetera appena si fermano dal giocare gli leggi in faccia un'inquietudine perché il trauma che durante quel tipo di vita si sta commettendo si sta facendo si sta causando nei confronti non degli adulti che hanno passato l'epoca del trauma ma dei bambini che sono là è tremendo ma il film è veramente stratificato perché se tu pensi che c'è poi a un certo punto questa ulteriore chiamiamo dicotomia che per la moglie del direttore è più importante rimanere a vivere lì per il benessere sociale se ci pensi è inquietante assolutamente piuttosto che trasferirsi ma come io c'ho qua la piscina una persona stana di mente ha detto ma quando devo firmare che me ne vado il più lontano possibile da lì però per lei è importante perché lì si sta bene poi voglio dire a me adesso un attimo anche mettendo di nuovo da parte la parte musicale uno potrebbe dire ma perché mi devo andare a vedere un film che da inizio alla fine mi mette questa ansia questa disperazione io personalmente penso che se una cosa ti dà emozione è bello fruirne e comunque a livello storico è un film incredibile a livello artistico lo è ancora di più per cui beh Almodovar disse una volta una delle frasi più belle che i migliori effetti speciali al cinema sono le emozioni che bella frase che bella frase di nuovo mi ispiri perché le emozioni non puoi nessun campo non solo quello che ti trasmette il cinema o la musica non le puoi decidere al tavolino cioè puoi anche autoconvinci mi devo emozionare però non funziona così non è un interruttore che si accende e si spegne a volte tra l'altro una delle cose belle del cinema della musica è che tu non avevi nessuna aspettativa per quel film io non sto parlando a livello personale Guido Gentile ha detto i lavori parlo come se fossi uno spettatore qualunque però ti siedi tu non avrai la certezza un film ti può deludere mi aspettavo di più ti può emozionare però quando ti emoziona veramente ti ha emozionato quindi in realtà e a volte ti emozionano i film è stato molto bello tu l'hai detto all'inizio non solo che il film è stato riconosciuto premiato ma ha avuto anche un riscontro di pubblico per un film così potenzialmente piccolo non piccolo nella sua valenza artistica però non è un film dei supereroi no assolutamente non è un bloccasto non ha questi budget enormi non ha la superstar di turno famosissima anche se l'artista è bravissima presenta anche l'anatomia di una caduta che è un anno splendido dal punto di vista attoriale però è così dici bene in realtà perché uno dovrebbe andarlo a vedere perché le emozioni forse è una frase fatta non hanno prezzo in realtà le emozioni non le puoi comprare è una delle poche cose che ancora fortunatamente non sono in vendita meno male meno male tornando e poi ti lascio la chiusura sulla febbre del sabato sera era un film che costò 3 milioni e mezzo di dollari e ne incassolte 230 al punto tale che poi ero gli Hollywood signori che il sequel è stato gris no il sequel è stato Stephen con la G Alive diretto da Sylvester Stallone ma va? sì che il sequel è la storia del cinema che ha più basso punteggio su Rotten Tomatoes dicono che sia più brutto io lo difendo invece non l'ho mai visto sempre con la musica dei Bee Gees lui è di una bellezza disarmante perché è definitissimo che poi è simpatico perché John Travolta non so se te lo ricordi bene nella finzione cinematografica nel film tra i suoi miti ha Sylvester Stallone e Rocky che è del 76 che ha vinto l'Oscar ha Al Pacino quindi di nuovo cinema ma non Al Pacino Al Pacino nel film Serpico che è del 73 Al Pacino è italo-americano quindi hanno anche una loro logica perché Sylvester Stallone italo-americano Rocky è un personaggio di finzione italo-americano stallone italiano Al Pacino è italo-americano nel ruolo di Serpico che è un personaggio storico realmente esistito il poliziotto che denunciò la corruzione in New York che è italo-americano Sylvester Stallone sì Sylvester Stallone grandissimo regista poi c'è anche Bruce Lee tra i suoi miti però il regista della Fabri se è stato questa sera doveva essere quello di Rocky che voleva fare un film più più semplice più morbido almeno spigoloso più ottimista con un finale diverso non piacque la produzione al giorno travolta e invece poi è diventato appunto non un nuovo Rocky però ha un sequel Stephen Alive di qualche anno dopo perché lui si è trasferito a Brooklyn cioè da Brooklyn a Manhattan ma non sei il solo che ha ripiugliato quel sequel ripeto credo che ha punteggio più basso su questo mezzo è Stallone che fa la parte di Manero praticamente no no lui lo dirige Stallone ah lo dirige è recista Stallone e l'attore è sempre Travolta non potevi non prendere no way travolta che veniva dopo il successo di Grease no Travolta è nel ruolo di Tony Manero che però si è trasferito a Manhattan però è regista di un musical di Sylvester Stallone che era negli anni di Rocky e Rambo lo stanno Stallone perché credeva di saper fare il regista ma guarda che Stallone c'ha nel cassetto stiamo facendo un po' di cinema più ad ampio raggio una sceneggiatura scritta da lui medesimo sul suo mito e sai chi è il suo mito? Edgar Allan Poe solo che adesso è diventato troppo che cazzo c'entra ognuno ha i suoi miti attenzione che Stallone pare che abbia un coefficiente di intelligenza altissimo ma io lo metto in dubbio il problema è che l'intelligenza e il gusto a volte non fanno proprio a bracetto questo è vero però c'è questo mito poi lui ha fatto invece di Edgar Allan Poe che sarebbe stato un film di nicchia poi c'è un brutto film con John Cusa con Edgar Allan Poe ha fatto i mercenari uno, due, tre credo che siamo arrivati a quattro sai però scritto doveva essere scritto diretto e interpretato d'Angelo però l'ha rimandato talmente tanto che adesso potrebbe fare il nonno di Edgar è un po' difficile perché poi è morto di Delirium vi stiamo annoiando Marco secondo me tornerà perché ti farò scegliere altri due film ti ringrazio della tua disponibilità anche di aver ospitato nel tuo molto tecnologico studio e questo è uno studio dove si può missare musica per film certo perché è indorbiato si può creare magari poi ne parleremo un altro come no possiamo come no diciamo che questa è la prima parte di una lunga chiacchierata ciao arrivederci e tornando a casa dalla bella chiacchierata che ho fatto con Marco riflettevo su questo mio forse ardito parallelismo tra gioventù bruciata e la febbre del sabato sede però gioventù bruciata prima ancora che un capolavoro è un archetipo quindi funziona molto bene la torne potremmo direttarci a insomma elencare tutti i parallelismi tra due film a partire dalla corsa di conigli che diventa qui la corsa sul ponte di Verazzano non di Bruqui però vi voglio voglio condividere con voi un momento forse un eccessivo pezzo da critico quando Tony chiede la macchina in prestito a Bobby e Bobby poi chiede ripetutamente a Tony di chiamarlo dopo loro si trovano in strada e dietro hanno un muro bianco di strada con tutta una serie di graffiti e tra le varie scritte c'è anche questa Jimmy D c'è anche una data 31-10-1972 quindi la festa di Halloween nel 1972 sinceramente non so dirvi se quella scritta sia stata realizzata dalla produzione o era presente così tra i tanti graffiti reali di quella strada però sicuramente o è evoluto o è una coincidenza il mito dei ribelli del ribelle senza una causa a legge anche sui ballerini della febbre del sabato sera ciao ciao